Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su X-Wing Academy. Con questo primo post-commentary dei regional che si stanno svolgendo in Italia, questo è il primo regional di Legnano e mentre i ragazzi sistemano il campo, cogliamo noi l'occasione per salutare e ringraziare in primis Davide Lomonaco che ci ha fornito le immagini e ci ha fatto questo grande favore a noi e a tutta la comunità di riprendere le immagini per divulgare la finale a tutti quanti, quindi grazie veramente. E in più salutiamo anche gli amici di Valludica, finalissima che smentisce quello che avevamo detto nella nostra prima live, ovvero che gli scam non avevano inciso nel meta, quindi finale ovviamente con due liste scam. Vabbè, non è che non hanno inciso nel meta a livello di obbligare la gente a fare determinate liste, tranne appunto la WG e infatti ci stanno liste molto molto varie degli scam, anche molto molto forti secondo me. E quindi in questa finale possiamo vedere alla nostra sinistra l'ottimo Filippo Bosi che salutiamo e ringraziamo per tutte le traduzioni, il culo, si può di culo, che si fa per questa unità, che gioca una lista molto simpatica con 4Y Wing Scam, equipaggiate tutte quante con droide che non mi ricordo il nome, che rende tutte le manovete 3 verdi, con la torretta Ioni, con il titolo BTL che ti permette di sparare due volte, una volta con la primaria e una con la secondaria, ma solo nel tuo arco di fuoco, e due delle 4Y hanno anche il bombo loadout con una piccola simpatica carica sismica, una lista molto simpatica, molto molto simpatica. Tra l'altro già si vedeva un pochino in giro con un po' di equipaggiamenti diversi oltre oceano, ma con scarsi risultati, io l'ho vista principalmente su partite di livello basso degli store championship, dopo che sono usciti gli scam. Vediamo che quasi chiacchiera, intanto stanno piazzando gli asteroidi, Filippo ha piazzato, no, no, l'hanno levati. Sì, stanno iniziando. No, gli ha detto, eh, gli sta a dire che l'hava messo, vabbè, un po' di... Vabbè, considerate che il torneo si è svolto con 5 turni di Svizzera e top 8, quindi 5 partite più loro due alte tre, quindi ci può stare la stanchezza assolutamente dopo 5 partite. Questa era la... la nonna partita loro. E non abbiamo presentato ancora l'opponent di Filippo, che è l'ottimo Francesco Castellari, che dopo la finale vinta a Modena arriva ancora una volta in finale ad intorno da 40 persone, quindi a testimoniare che anche lui è un ottimo giocatore, uno dei più forti in Italia, perché ultimamente si piazza ovunque, ha vinto anche a Roma, quindi veramente, veramente complimenti per quest'altra finale. Sarà una partita molto, molto interessante, visto che ad affrontare le 4 Y di Filippo troviamo due simpaticissimi IG. E' una delle liste must per gli scam che ha spopolato in questo periodo, equipaggiata con Mangler Cannon, Predator e tutti gli ammaniccoli vari che li rendono, se non invulnerabili, molto, molto resistenti. Ma poi io ho giocato contro Francesco con la doppia IG e è veramente bravo lui, la manovra bene. Poi, vabbè, il punto è che è una lista che sorprende, specie se non si è abituati a giocarci contro. Diciamo che è un po' che si fa l'occhio sulle manovre dell'IG e diventa già un pochino più arginabile, ma poi lì sta la bravura di ognuno. E' un po' come il Phantom, indubbiamente, perché anche il Phantom aveva le sue... All'inizio, a sorpreso, chi ci giocava contro rimaneva totalmente sorpreso appunto dalla sua mobilità. Poi, piano piano, si imparava e si imparava anche ad arginarlo. Vediamo, intanto vi leggo la lista di Francesco con gli equipaggiamenti. Allora, IG-88B e IG-88C, ovviamente, entrambi con Predator, Sensori avanzati, Autotrust, Scannone Mangler, Titolo, IG-2000 e Feedback Array, che in questa partita, penso, non verrà utilizzato, perché ti fa prendere un oione e penso che Filippo ne spari già abbastanza. Feedback Array comunque è un illicit, secondo me, tra i più forti, perché ti permette di fare un danno anche fuori dall'arco di fuoco. Sì, soprattutto sui loro due che sparano solo con l'arco di fuoco. Eh, appunto, magari su un Fel già mezzo rotto, un Phantom, che ne so, l'ultimo danno sul Decimator. Eh sì, intanto vediamo che Filippo ha schierato, ha scelto l'angolo in basso a sinistra. E Francesco deve decidere se piazzarci davanti, ma non so quanto gli possa convenire. Io, infatti, schiererei proprio da quest'altro lato, verso la scritta Games Academy, che c'è un bello spazio di manovra per i 2G. Mi sembra abbastanza buono, invece sembra che vuole tentare un approccio più diretto. Se riesci a fare la Senior Loop, prima di venire ionizzato, diciamo che comincia a avere predominio sulla lista di Filippo. Sì, sì. La Senior Loop o la Goyo Gran comunque, eh. Questi fanno la Senior Loop con azione, con i sensori avanzati, eh. Non ce lo scordiamo. Non ci fanno pure le vade. Ah, infatti si sta spostando. Potrebbero fare anche una curva quasi da 4 stretta, facendo boost e seniors loop, eh. e si prendono le vade perché hanno fatto il boost. Sì. È una nave, questa veramente è entrata gamba tesa nel meta. Sì. È una delle più giocate questa lista. Pure molto molto difficile da giocare. Cavolo, assolutamente sì. Non c'è la torretta, ecco, ma vorrei vedere che ci fosse anche a vedere. Però diciamo che comunque devi saperla muovere perché sennò non spari. E spari comunque se hai colpi. Stavo pensando, ma probabilmente adesso, con le torrette. I... come si chiama? I ribelli. Ci hanno solo 3 navi, 4 navi che sparano, 3 dadi. Le altre sparano tutte e due dadi. Eh sì. Di attacco. Vabbè, è una subillaggia. Poi quelle imperiali quasi tutte sparano due. Beh, imperiali solo l'Advance, il Bomber e il TIE. E i TIE Fighter. L'arte sparano tutte e tre. Sì, gli altri sparano tutte e tre, è vero. Sì, ho detto una grande cavolata. Intanto il tempo è partito e Filippo ha già piazzato le manovrine. E Francesco sta riflettendo. Giustamente. E questo è stato un torneo da 40 partecipanti. Cavolo. E quindi vuol dire che siamo cresciuti tantissimo come comunità, ragazzi. Perché l'anno scorso, già a Modena ce n'erano 35, adesso 40. Insomma, si cresce sempre di più. Sì. E intanto sembrano 4-1 dritte, no? Sì. Sì, sì. Vabbè, giustamente. Manovrine corte per vedere cosa farà, più che altro Francesco. Io penso parta... Oddio no, però sapendo che ha gli ioni dovrebbe cercare di rendersi il più lontano possibile. Ne ha schierato uno quasi frontale e l'altro più defilato, però c'è un po' di intralcio con gli asteroidi. È vero che muovono molto bene, però... Sì, ma poi col busto fatto prima, bene o male, riesci sempre a... Parte con il primo aggressor, sembra una 3. Sì, una 3 dritta. E poi... Sono curioso di vedere come usa le bombe, se usa le bombe soprattutto, ma come le userà Filippo, perché... Io con gli Y non saprei proprio come usarle. Da queste penso che lui voglia ionizzare e una volta che sa dove va a finire, se ha possibilità di colpirle con due bombe... Eh, ma nel senso rischi di colpire i tuoi, dici vabbè, chi se ne frega se fosse un danno sul navio e c'è una notte. Anche perché tu hai 4 navi, lui ne ha 2, capito? Sì, quello poi è un danno automatico, eh. La carica sismica, non è che c'ha... Sì, 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 sì. It's not bad. Sono curioso, sono curioso. Tanto ha fatto una 3 dritta e un boost. Sì. Tra l'altro l'Y non ha anche la possibilità di droppare le bombe dopo che ha mosso volendo. C'è un altro titolo per fare una cosa del genere. Uno dritto. Vediamo un po' se uno dritto è la manovra o è l'azione. Ma hai dato le vede, quindi penso sia... Ah, no, è l'azione, è il boost. Eh, infatti... Non ha preso l'asteroide, mi sembra. Non ha preso l'asteroide, però ci si è piazzato davanti. Infatti io non ho capito perché ha schierato così di qua. Vediamo come vuole bruciare. No, vabbè, ma ci poteva pure stare, però magari più di là a quel punto se voleva fare questa cosa con una manovra di accerchiamento. Io penso perché poi voleva fare magari la senior per finire dritto dietro delle navi, capito? Facendo la 3 bank e poi di nuovo boost e 3 bank. Ma c'è un pilota degli EG che fa la 3... la senior sloop con la 3 stretta? Può decidere, sì. Vero. Vediamo un po' perché mi sa che vediamo anche i primi fuochi. Sì. Vediamo un pochino. Mangler. Mangler cannon, sono... 3 hit. 3 hit, 3 critici, sembra. E aspetta perché Filippo ha tirato due dati e mi sa che ha sbagliato perché è un mangler. Vediamo un po'. Perde uno scudo. Forse non se ne sono accorti. Ah no, gliel'hanno detto adesso, gliel'hanno detto adesso, quindi adesso rirollerà, penso rirollerà. Vediamo. Sì, ne tira uno. Eh sì, perché non ha ritirato cooperator, quindi per forza 3 danni. Sì, sì, 3 danni. E ne vade uno. Quindi sono due. Quindi sono due scudi eliminati. No, non l'ha usato l'occhio, mi sa tre e l'ha preso. Eh. Eh, penso che abbia tirato un evade. Ah, ok. Sì. Vabbè, comunque due scudi ha tolto. Perché vedo uno scudo sulla carta. Sì, sì, due scudi ha tolto. Tira i due dadini d'attacco. Risponde al fuoco la mitica Ypsilon. Fa quello che è un danno, però c'è già un evade piazzato sull'IG che evade. Questa storia del boost evade automatico è incredibile. Vabbè, è una bella abilità. Mamma mia. Quindi ragazzi, qui vogliamo un sacco di visualizzazione, un sacco di commenti per questo video fantastico. Mi raccomando, non deludeteci qui. Vabbè, c'è pure sensazione che vedremo una partita bella tirata, insomma. Non lo so, però... Diciamo che le liste... Sono due belle liste. Madonna, sono molto molto belle. Certo, quella di Filippo non ti fa proprio giocare. E' appunto a quello. Non ti fa proprio giocare. E si parte col secondo turno. Con le manovre. Vediamo Filippo che cosa sta scegliendo. Sono tre Y, ribelli e una scam, mi pare di vedere. Sì, sono tre ribelli e una scam. Belle l'Y scam. Complimenti. Belle, però. Che poi ha messo sul tavolo ci stanno solo le quattro carte delle Y, perché le Y, equipaggiate così, ci hanno cinque carte piccole a testa, delle quali due costano zero punti. Era un po' ingombrante. E si va al secondo turno, anzi al terzo, mi sa, sì. Già si sono sparati, qua niente di che. Insomma, due scudi alla Y. Ci può stare. Adesso voglio vedere come muove Francesco, perché non sono messi bene i due G, eh. Ah, vabbè. Il problema è quello con l'asteroide. Vediamo Filippo che fa. Era una manovra lunga. Tre dritta. Giustamente. E focus. Con tutti, penso. Con tutti, tre dritta e focus. Potrebbe pure pensare magari di fare una bank con gli altri, ma non ne vedo la necessità. Sì, in effetti, boh. Cioè, con una lista del genere non credo... No, conviene più mantenere la formazione. Cioè, adesso girare significherebbe, scusate, andargli addosso, praticamente. O farsi venire addosso, quindi conviene andare dritti. E tutti i focus. Vediamo, Francesco, come si comporta di conseguenza con la sua doppia pizzetta. Così sono state sovrannominate, hai visto? Su Facebook, sulla community italiana, la pagina nostra. Le due pinze per le unchie. Guarda quanto sembra lungo il metro. C'è una prospettiva sballata in basso a destra, che nel metro del range sembra lunghissimo. Rispetto a quello giallo di Filippo sembra il doppio. È vero. Quindi, come dicevo, le pinzette sono sempre... È vero, sembrano due tronchesi, sembrano. Però le tronchesi che spaccano. Io non so adesso le manovre che ha fatto, ma potrebbe pure tentare la Senior Loop adesso lui. E sarebbe in grandissimo vantaggio se... Ah, tira un dado. Si toglie un danno. Si, subisce un danno dall'asteroide e tenta una... Vediamo un po'. Tre bank. C'è entrato? Sì, sì, è entrato. Sì, c'è entrato. Però tre bank. Si è allungato parecchio e lui... Ah, e va a sbattere con l'altro. Vediamo dove sbattere. Quell'altro con un boost e una Senior Loop sarebbe arrivato, non so, probabilmente sopra un detrito, ma di sicuro stava messo meglio. Eh, il problema è che ha sbattuto sul suo, quindi si becca il fuoco a distanza 1 di probabilmente tutte e quattro. A distanza 1 magari non tutte e quattro, ma comunque. Il problema è che si becca due ioni, sicuri. No, ma ha quattro ioni. Vabbè, due o quattro non cambia niente. Cioè, una volta che ce n'ha due... Eh, va dritto, sì. Vediamo un po'. Quindi rimane lì, quindi dopo c'ha quattro y accodate dietro. Se quelle dietro riescono a fare la... Allora, praticamente stanno decidendo perché le due y dietro hanno le bombe. Mhm. Quindi forse Francesco ha scelto di sparare con entrambi gli aggressor su uno di quelli dietro, visto che anche se fa otto hit, con due a range 1 potrebbe anche esploderlo. Vediamo un po'. Tra l'altro con il gunner incorporato qualcosa farà sicuramente. Allora, range 1 sulla y più verso la telecamera. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Sentiamo. 3 hit, credo. Vediamo un po'. Dobbbero essere o due o tre hit. Spende il focus, sono tre hit. Tre hit sulla y dietro. Dipende con uno. Bianco. E se li becca tutti quanti, ovviamente... Via tre scudi. Giustamente, schiva con uno. L'alto aggressor range 1, sono tre hit. Ma... Predatore. Sono quattro hit e se li becca tutti. Nessun critico? No, però... Uno, due... Critico... Ah, due critici? Macchio. E non penso sia un doppio danno. No, un critico, credo. Adesso vedremo cos'è. Ok, ed è il critico pescato. Riduci il valore di arma primaria di uno. Quindi un colpo in meno e... Y wing ad un punto vita. Eh sì, te l'ho detto. Deve troppare la bomba al tono dopo, perché... Sì, poi... Allora, adesso stanno sparando... Tutte le Y... Sul aggressor visto. Quindi... Si parte. Arma primaria. Questa fa un hit. Dovebbero essere tre dati, ma sono due per critico, eh ragazzi. Un hit. Un hit? Ma è un critico? Eh, non lo so. Evaso. Evaso. Il titolo. E adesso si spara per canaioni. Questi vomitano proprio i colpi. Focus, sono tre hit. Sono tre hit. Andiamo un po'. Vediamo un po'. Oh, tutta roba. Eh, un danno e uno... Ah no, usa le vede e li schiva tutti e tre. Sì, hai evaso. È un focus, credo. Sì, 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 hai evaso comunque tutto quanto. A distanza uno c'è anche quello giù in fondo. Mamma mia, quanti dati, ragazzi. Tre hit, secchi proprio. Cattivo. Tre, so tre. E se li prende mi sa tutti e tre. Eh sì, so due focus. Due focus e un bianco. E cannoncino a ioni. Attenzione. Tanto per gradire. Mamma mia, quanto sparano. Eh, questo titolo ha brutto tiro. Un hit. Ah, tre bianchi. Quindi perde l'ultimo scudo. Il problema è lo ione. E prende il segnalino ione. Più che altro è quello il problema. Oddio, vero che è cotto il punto per gradire? Eh, c'ha altre due navi, eh. Sì, sì. Quell'altra. Cittata uno. Arma primaria. Vediamo se decide... Spend il focus. Spend il focus. Sì, conviene quando ne fai due. Decide di fare due hit. Due evade. Ok. Wow, mamma mia. Beh, quindi vede prima che sta... Sì. E un hit. Un hit di ioni. Vediamo un po'. No evade, credo. No evade. Quindi un danno. Quindi subisce un danno e prende il secondo ione. A questo punto la torretta della terza y. Della quarta y, scusate, diventa inutile. Ma comunque può fare un danno. Sì, è inutile fino a un certo punto perché... Focus. E sono due. E sono due. Schiva entrambi i colpi. Quindi può subire ancora un altro danno dagli ioni. E sono... Ah, non l'avevo usato prima, Focus? No. Qualche cosa... Ah, sì, l'ha usato prima, gliel'hanno detto. Un hit. E so uno. Ed viene evaso. Quindi, ragazzi... Maglio di così non gli poteva andare. È stato un turno di fuoco molto, molto interessante. Abbiamo due... L'ala y che vedete nella formazione, quella in basso a sinistra, ha un punto vita, dopo il fuoco combinato dei due aggressor, ma l'aggressor, quello più verso Francesco, quello un pochino più indietro, ha tre punti vita dopo la vagonata di colpi che gli ha sparato. E soprattutto il turno dopo non spara. E soprattutto il turno dopo è ionizzato, andrà uno dritto e probabilmente non sparerà. Non spara, non fa azioni perché sbatte. Probabilmente si prende anche una bomba. E ovvio... Ah, questo sta ringgiuno, però sta ringgiuno pelo pelo, quindi non credo che la bomba ci arriva. Non credo... Non gli conviene... Perché rimane lì. Capito? Non si muove. Lui muove prima. Ah, sì. Perché è ionizzato. È vero, è vero. È vero, sì, non ci pensavo adesso. Muove prima. Come dicevo, durante i vari tiri, le Y, così a distanza 1, hanno sparato 3, 6, 9, 12, per 2, 24, tranne 1, 23 colpi. Sì, infatti. Mamma mia. No, io forse fossi stato in Francesco, ma poi, insomma, non l'ho mai giocato alla doppia aggressor, quindi sicuramente dirò una cavolata. Avrei cercato di tenermi il più possibile a range 3, almeno di farci un turno a range 3 e una range 2, in modo da sparare sicuramente 3 volte. Ah, sì, anche perché anche il Mangle Cannon ti fa un critico e non gli fai prendere l'aggiuntivo. Magari già scoppiava una Y prima che gli arrivavano tutte a range 1, già era diverso. Che comunque ha preso due ioni pelo pelo. Sì. Non è detto che una Y li faccia... che con Y in meno l'avrebbe ionizzato. No, è vero, è vero. Quindi adesso si fa dura perché, sì, si muove prima l'IG danneggiato e... no, si muove alla sua abilità di pilotaggio. Mi sembra di no, comunque. Forse sto di una cavolata, ma ho controllo. O forse già hanno considerato mosso, però è sempre, in realtà sta là, insomma. Eh, probabilmente sì, probabilmente sì. Quindi, se lo muovono dopo, vuol dire che... Quattro coiocran. Giustamente, per rispararli a distanza 1. Se la Y, la Y indietro non riuscirà mai a fare la coiocran. No, quella dietro non dovrebbe passare. Quattro coiocran. Vediamo un po'... Tanto si è sentito un fischio. Non ho idea di che cosa sia stato. Quattro coiocran. Quattro coiocran anche con la... Quattro coiocran. Terza Y. Che non c'entra. No, mi sa che sta pensando se sganciare la bombazza o no. Potrebbe fare... Però se la tiene. Massima conviene. Cioè, più che altro per l'IG quello sano, ma non penso che... No, ma non penso che Francesco sia andato di là. Eh. Eh, cavolo. Vabbè, con la coiocran. Quattro coiocran potrebbe anche... Questo la sgancia, perché tanto... Beh, certo. Tanto muore. Se uno dei due gli fa fuoco lo scoppia. Anche perché non può girarsi, quindi... Probabilmente non sparerà nemmeno. Tira la simpaticissima carica sismica. Due punti. Esplode alla fine della fase di movimento. E tutte le navi a distanza 1 subiscono un danno. Giustamente si allontana. Con una 1 bank. Come azione tenta di girare il danno critico e non ci riesce. Quindi continuerà a sparare un dado in attacco. Ok. Quindi, vediamo come si muove. Intanto Filippo stava spiegando la carica sismica a Francesco. Non si ricordava. La bomba più semplice in assoluto. Ma per due punti, io, anche... Avete visto sul canale, sui focus dei Filespray, io la consiglio sempre. Se ti avanzano due punti, anche su un Filespray, magari se voglio una coda... Diciamo che in questa lista c'è l'opzione di mandare due Y-Wing abilità a pilotaggio 4. Perché sono due punti e due punti anche lì. Che potrebbe anche non essere una cattiva idea, visto tutti i Predator che girano mo'. Vero, vero. Cioè, sempre da... Sì, la bomba, certo, è più magari utile contro eventuali sciami o... Eh, il problema di avere le navi con abilità a pilotaggio diversa in questo caso è che quando fai una coiocrana, a meno che non ti continui a muovere in automatico... Cioè, ti trovi sempre davanti la prima volta che ti giri, quelle coi abilità a 4. E poi per farle rimuovere è difficile, eh. Quindi, forse l'abilità para per tutti e due bombetti non è male. Vabbè, in quel caso le metti davanti, quelle abilità a pilotaggio 4. Basta metterle davanti. Ah, sì, poi muovi sempre allo stesso modo, sì. Oppure le metti sfalsate. Ah, vediamo che fa Francesco, che penso... Eh, muove... Ok, non l'avevano mosso, però tanto rimane lì. Però io credo vada mosso subito, eh. Questa sensazione. Vediamo un po' che fa con lui. È invece andato... No, dall'altra parte. Vabbè, ma giustamente. Dall'altra parte. No, perché l'aveva presa al verso contrario. Ho detto, no, non è possibile che ha girato di là. Una senior. E avrà fatto sicuramente advanced sensor. Si prende il danno della bomba. Sì, si prende il danno della bomba. Ha fatto benissimo a sganciarla. Che ricordiamo ha perso due danni. Uno per l'astero e uno per la bombazza. E prende un focus. Ovviamente, ragazzi, con i sensori avanzati, eh. L'ha messo dopo, ma insomma... Ottava partita ci può stare assolutamente. Che ti scordi. Sì, nona. Mi hanno fatto i cinque di top. Mamma mia. Cinque di Svizzera. Sì. Più quattro di top. Questa è la quarta. Sì, quarta. Un botto di partite. Sì. Fagerate. Io ce la farei. Allora, ma secondo te l'IG danneggiato vede la Y danneggiata? Sì, non ha sbattuto. Ha fatto azione. Allora, intanto vediamo Mangler Cannon. Ah no, è che vede. Se si è mosso dopo non vede. Gli è andata addosso. No, no, la Y non è andata addosso all'IG. Eh, ma l'IG si è mosso dopo, a quanto pare. Eh, ma è andata addosso a quest'altro. Ah, vabbè, allora ok. Tanto è Mangler di quello che si è girato sull'IG danne... Sulla Y, scusate, danneggiata. E' l'unica su cui arriva. Vediamo un po'. Sì. Adesso io vi diciamo anche quello che sentiamo dall'audio originale. Francesco qui sta pensando di tentare di far esplodere una Y con il Mangler e poi fare una... Eventualmente, se non dovesse andare bene, prendersi un uione e far esplodere con il feedback array. Un uione è un danno. Un uione è un danno. Un uione è un uione che sta già a tre punti di vita quel coso. Sì. Tanto perso per perso, dice. A me non sembra che abbia detto questo, poi... Magari ho frainteso e mo' mi insulterà Francesco, ma... Accettiamo tutto, accettiamo tutto su X-Wing Academy. Facciamo spamma. Hai detto X-Wing Academy? Perché no. Fanno pubblicità sul nostro stesso canale. Boh, è vaso. No. Non ho capito che è successo. Non ho capito che cosa è successo. Ah, no. Penso che stia chiedendo se può sparare sulla Y oppure no. No. Ok, sono tre... Un hit. È esploso. Vabbè. Così. Ok. Vabbè, per aver sparato... Sì, sì, ha sparato. Ha tirato il dato di difesa prima, che tanto non cambiava niente. Giustamente. E quindi un Y è scoppiato. Vediamo quelli G che fine farà, perché presumo che non spari. Ma io presumo che... Usi il feedback array a sto punto, gli conviene. Tanto morto per morto. Che gnafa fa tre danni. Eh, penso di sì, anche perché gli spara contro... Quello non c'è azioni. Vediamo un po'. Arma primaria. Non ho usato il feedback array. Un hit. Un evade. E lo evade. Toretta Ioni. Un hit. E lo prende. Quindi... Eh, sì, sensazioni. È un danno e un oione. Ci sta. Sera pure malino, Filippo. Ecco. Due hit. Ho parlato. E lì prende entrambi, sì. Ecco. Questo è stato un brutto... E abbiamo il primo... Vediamo un po'. Sì, sì, sì. Presi. Prima caduta della nostra finale, della loro finale di Legnano. Cade un IG di Francesco. Vabbè, ha preso una quantità di colpi incredibile. Che non aveva altri... Nove. No, perché non ne ha sparato il cannone. Altri nove colpi, mamma mia. Eh sì. E adesso si affronteranno tre Y quasi full, perché ricordiamo che... Posso fare la bellissima tre bank verde, quelle cattivone. Capito? E lui no, perché ovviamente c'è lo stress della senior. Anche se aspetta, la tre bank verde, diciamo che... Io farei una due... La due è verde, vero? No, la due è bianca. Non c'hanno bank verde. Non c'hanno nessuno bank verde. E allora farei una tre bank verde. C'evo la due bank verde, facevo la due. Eh, in quel caso però sicuramente... Abbondantemente. Oppure magari sceglie di non distorsarsi. Anche perché se lui fa una, che ne so... È vero che considera che l'IG non ha manovre strette verdi. Ha solo le bank verdi e le dritte. Quindi, già se facesse una... Uno bank e boost con la bank, tre bank, credo che non lo prenda. Non lo so. Perché poi noi abbiamo tutta una prospettiva storta. Quindi, è pure difficile valutare. Io proverei a questo punto ad andargli addosso. Eh, ma vai addosso a una. Eh, lo so. Pranto, fai l'azione prima, ti risparmi sei colpi. Sì, è noione. Ti risparmi sei colpi e un oione sicuro. Capito? Potrebbe fare una tre back pure lui. Per poi così allontanarsi e cercare di fare qualche turno di più a distanza tre. Ho una tre dritta anche. Però la tre dritta, metà che poi lo porta... Per prima, adesso sono 50 punti di IG contro i 26 di... Sì, vabbè, ma non essendo a tempo, quindi poco male. Oddio, se ne esplode un'altra va a vincere, però. Ma non è a tempo? O è a tempo? No, penso non sia... No, mi sa che è a tempo. Beh, sì, vanno 50-52. Vediamo un po', vediamo un po' questo turno esaltante. Turno di fuoco numero 4, sembra, e... Dopo una abile senior sloop, adesso è dura per l'IG. Anche perché c'ha già due punti vita. Infatti si pensa parecchio, perché questo turno è abbastanza fondamentale. No, ma il punto non è tanto... Cioè, nel senso che sono rimaste tre Y, non praticamente full. Ah sì, solo quella che vedete in basso a destra non ha due danni. E l'IG c'ha 6 punti vita. Sì. Vero che schiva il triplo, ma comunque... Si parte, e quella che sembra una 3 bank... È una 3? Sì. O è una 2? No, è una 3, la 2 sta qua. Se si leva lo stress, è una 3. Sì, stress focus. Questa è una 2. No, 1 dritta, 2 dritta. 2 dritta verde? Sì, le dritte sono verdi, la 1 e la 2. E la 3, perché c'ha il drone. E due dritta verde. Vabbè, si prepara per la prossima coio, tra l'altro. No, secondo me si prepara che quella che si è fatta la 3 bank si è messa in condizione di sparare una bomba potenziale. Eh, però adesso... Ecco, un boost potrebbe... Ah, c'ha l'asteroide. Se non è se riesce a farlo, il boost. Eh, infatti penso che lo prova. Io lo proverai, il boost. Eh, che sei scemo? Ti avvii di un turno di fuoco. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oddio, è vero pure... Adesso si spara con due sicure, forse anche con tre. Sono meglio con tre? Sì. Infatti sta pensando proprio a questo. Sì, è una lista comunque la WG che ti porta veramente a giocare concentratissimo tutte le partite che fai, devi stare a duemila. Perché non puoi sbagliare niente. Già spari tre colpi qua per nave, ne spari sei in totale. Ma non puoi sbagliare niente. È un po'. Boost verso destra, non si può fare, c'è l'asteroide. Dritto, no. Ti immagini nella battaglia vera? Al boost, poi... Aspetta. No, aspetta. Lascia la retromarcia, torna indietro. Ah, intanto, mentre si pensa, qui. Avete iniziato a partecipare al contest? Mandateci le risposte, eh. Il nostro contest, fateci sapere, mi raccomando, eh. Forse qualcuno ci è già arrivato perché questo video uscirà dopo quello del contest, quindi... Magari sto dicendo una cavolata, già ci avete mandato le risposte. Però dovete andare in torneo con quelle liste, vediamo il fuoco. Sono quattro hit. E sono quattro danni. Su quella già danneggiata. Quella già danneggiata dovrebbe andare ad un punto vita. No, a due punti vita, scusate. E il critico non può eseguire azioni nella tua barrazione. E mi sa che l'altro è un doppio danno. Mi sa di sì. Mi pare di aver sentito di sì. Eh, vediamo un po'. Ok, spara solo con quelli due. Quell'altro non vede. Tre hit di primaria. Acce. Si va a difendere con tre. Ho tre focus. No, prende un danno. Mi sa che ha tirato due evade e un occhio. Però si prende il danno così magari prova a schivare... L'uione. Tre di ioni. Usa il focus. Si prende un danno e un oione. Perché ha tirato gli occhi. E beh. Eh, ha tirato un bianco e due occhi. Lui ha fatto tre hit. E intanto non poteva evade comunque. Mi è convenibile. Mi è mai convenuto usarlo. Ah, no. Tanto sempre un danno si prende. Ma infatti mi sa che c'è il focus. Si, infatti. Un altro danno. Ed è il primo sugli scafi. Altri tre hit. Un altro danno e un altro ione. Quindi... Ionizzato. Mamma mia. Fanno uno dritta. Va sull'asteroide. Ma quanti colpi sparano? Sparano tanto ma poi non ti fanno giocare a te. Perché se ti sparano il turno dopo tu non spari. Perché mo' va sull'asteroide. Soprattutto se gli si è messa bene la partita a Filippo dal momento in cui ha fatto due turni di fuoco lui. Eh sì. E tutte e due a range uno. Sì, sì. Tre turni di fuoco, scusate. Tutte e tre a range uno. Tutte a range uno, sì, sì. Eh... Ma infatti è... Penso... Non vorrei azzardare... Giudizi... Cioè, giudizi. Conclusioni prima che finisca, ma... È a due punti vita l'aggressore e c'è un asteroide davanti. E tu fai le... Comunque le azioni le puoi fare, giusto? Se sei ionizzato. Sì. Ma non può essere sensori. Non può essere sensori avanzati, no? Perché io ho pensato... Ma io fai un boost, però il boost forse solo di là lo potresti fare. Eh sì. Eh sì, adesso... Ti sei sicuro che questo turno non sparerà perché finisce sull'asteroide? Ma anche se non finisse sull'asteroide non sparerebbe lo stesso. Sì, penso che ci vada a finire. Poi magari abbiamo la prospettiva sballata, però è dura, eh. Anche vero, forse... E dico forse... Non riesce a sparare Filippo a questo turno. Perché non ci arriva? Eh, perché non ci arriva. Perché lui andrà avanti di uno e... Forse ci arriva con le armi primarie. Quindi con quattro... No, sì, quattro colpi. Vediamo un po'. Perché penso faccia una quattro coiocran. Si va a rimettere veramente in posizione iniziale. C'è anche il campo di qua, eventualmente. Vediamo un po'. Eh sì. Anche con un'altra Y. No, non lo sgancia, non mi conviene. Stress e anche gli altri due, penso. E sì, infatti. No, anche perché se poi si riprende... Ah no, vabbè. Non credo ci arrivasse su un bar in giù. C'è un po' la prospettiva sballata. Sta più vicino di quanto credessi con la quattro coiocran. Io pensavo che andasse molto più in fondo. No, ma spara ci arriva, come no? Eh, io pensavo di nuovo. Magari non con la torretta. No, con la torretta no, sicuramente no. Uno dritta. Asteroide. Vediamo un po'. Danno d'asteroide. Vabbè, ma arriva a questo punto. Prende un altro danno a un solo... Distanza 3. Potrebbe anche sopravvivere su turno, eh. Schiava con quattro. Un hit. Schiava con quattro, quattro. Un bay basso un bianco. No, non mi sta usato, thruster. Ah, è vero. Vediamo se ha due. Quello era a treno, gli ha sparato con la seconda. No, no, l'altro no. Ma sai che ce n'è una gittata a due. Niente. E l'altro? No, è gittata a tre. Eh, no, no, aspetta. Niente. Eh, torrettaioni, sì, sì. Due hit di torrettaioni. E finisce, perché prende un danno. L'ultimo danno. Finisce qua la partita, la finale. Molto bella. Peccato un po' per i primi turni, nelle quali Francesco si è un po' suicidato, diciamo, secondo me, per lo schieramento, principalmente, però, veramente, cavolo, nonostante tutto, oh, si è presi tre turni, ventiquattro dati. Sì, quattro turni di fuoco. Madonna, ventiquattro dati a testa. E quindi adesso sta a voi, commentate, fateci sapere cosa ne pensate di questa finale, lasciate magari un commento, anche per i partecipanti. E ci vediamo, noi, anzi, diciamo questo, speriamo di riuscire a portarvi tutte le finali dei Regional con il nostro commento, questa era la prima, e speriamo veramente, veramente tanto di averle tutte e quattro sul nostro canale per voi. Ci vediamo al prossimo video, sempre tu, dillo tu, Matteo. XWC Academy. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.